Cari amiche e cari amici, quando ero ragazzino c'erano le sale parrocchiali, questi cinema di sesta visione, quindicesima visione, non lo so, con tutte queste pellicole rovinate, e nella sala parrocchiale vicino a casa mia ci riunivamo, tanti ragazzini eravamo, e proiettavano spesso dei film western, e mi ricordo quando alla fine moriva il cattivo, c'era proprio l'apoteosi, tutti i ragazzini a battere le mani, a urlare, evviva, evviva, abbracci, una cosa fantastica, e questo stato d'animo l'ho rivessuto oggi sentendo l'intervento di Sara Kunial, cioè dopo tutta questa quarantena, finalmente una ex cinque idioti, cinque stelle, traditori, che poi è passata al gruppo misto, ma non è importante di che gruppo è, perché la politica è talmente bassa e lontana dal popolo, opposizioni comprese, che adesso ci aggrappiamo a tutto, e quindi questa Sara Kunial finalmente gliele ha cantate, poi dice, ah ma bisognerà vedere poi se cambierà qualcosa, intanto li ha mandati a fare in culo da A alla Z, e già questa è una grande soddisfazione. La Repubblica scrive la deputata Novax Kunial contro il capo dello Stato, e subito cercano ovviamente adesso di gettargli addosso la croce, dice coronavirus, la deputata Novax, di scrivere Repubblica, contro il capo dello Stato, lei si difende, ma parlavo di Napolitano, la Camera valuta l'ipotesi di vilipendio, perché adesso gliela devono far pagare, opposizioni comprese, che è quello che... Salvini, Meloni, svegliatevi, ma dove state? Dove state? Forse qui hanno aperto il ristorante da Bruttone, qua vicino a casa mia, state lì, dove state? Sara Kunial, Sara Kunial, ci volete? Altro il fatto quotidiano, ma sapete che ha il coraggio di scrivere questi pennivendoli di Stato, non si smentiscono mai, l'intervento complottista di Kunial, la complottista, finalmente una che gliela canta e gliela sona, la liberazione proprio, come quando da piccolo moriva il cattione film western, ah, finalmente ha detto quello che, se dicevamo tutto di fila, e lo abbiamo detto a spizziche e bocconi, nei canali alternativi, ma se facevamo un discorso di fila, come ha fatto Sara Kunial, ci avrebbero chiuso il canale, e quindi proprio, ah, la liberazione, Sara Kunial, dove stai? Dove stai? Io per te sono disposto a mettermi un parrucchino, a tingermi la barba, a lasciare mia moglie e a scappare con te, dove vuoi? Dove vuoi? Dove vuoi? Da Canicattia alle isole Hawaii, dove sei? Dove sei? Sara Kunial, Sara Kunial, ma che meraviglia, ma che meraviglia, per un attimo finalmente, ah, si è respirato aria di politica vera e non questo ridicolo gioco delle parti che ci ha messo una museruola e ci ha costretti a una carcerazione domiciliare di mesi che ancora non è finita. Un pollice su per il mio lavoro, sempre inchiodati al decimo toro, un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.